Gli esperti russi sarebbero maestri nel controllare le condizioni meteorologiche per evitare che pioggia e maltempo possano rovinare importanti manifestazioni. Come fanno ce lo spiega il corrispondente Alessandro Cassieri. Sembrava una leggenda metropolitana e invece era un segreto finalmente svelato. Riuscire a non far piovere là dove il cerimoniale entrerebbe in crisi, come ieri durante la festa per le celebrazioni del 9 maggio. Pioggia su Mosca, dicevano le previsioni, e invece nulla. Putin e i maggiorenti russi hanno potuto rimanere anche stavolta sulla Piazza Rossa senza ombrello, grazie a 12 aerei che hanno sorvolato il centro della capitale, scaricando sulle nuvole un composto fatto di azoto, iodio e argento. Miscela non si sa quanto ecologica, ma efficace e soprattutto sperimentata. In un paese in cui i fenomeni atmosferici sono estremi, la pioggia può diventare un vero problema. Se ne resero conto anche i leader del G8 l'estate scorsa a San Pietroburgo. Pioggia ha dirotto ovunque, tranne che su le loro teste. Anche allora si vociferò che era stato merito degli aerei anti-pioggia. Adesso sappiamo che non era solo propaganda.